Cari figli, oggi in questo giorno di grazia in un modo particolare vi invito di pregare per la pace. Figli, io sono venuta qua come regina della pace e quante volte vi ho chiamati a pregare per la pace. Però i vostri cuori sono agitati. Il peccato vi frena ad aprirvi completamente alla grazia e pace che Dio vi vuole donare. Vivere la pace, figli miei, vuol dire prima ad avere la pace nei vostri cuori e donarvi totalmente a Dio e alla sua volontà. Non cercate pace e gioia in queste cose terrene perché tutto questo è di passaggio. Sforzatevi verso la vera misericordia e pace che viene solo da Dio e solo così i vostri cuori saranno pieni di gioia sincera e solo così potrete diventare testimoni di pace in questo mondo agitato. Io sono la vostra madre e intercedo per ognuno di voi. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata.